...che saranno le due squadre in campo con la Battistelli che schiererà Casiglio per il numero 1, Battistoni con il 5, Markovic con il 6, Zanette opposto con il 7, Giulia Saguatti per Davidana con il numero 8, in un numero 8 al centro anche Anna Canneva, mentre invece il libero sarà Giulia Givertini, il 16 di Cuni invece dovrebbe essere quello appunto visto domenica scorsa a Sovranato.